Il Ministero ha deciso di rigettare più di 900 osservazioni promosse da altrettanti cittadini di questo territorio, cittadini, imprenditori, famiglie, che avevano richiesto una valutazione di impatto ambientale. Sarebbe stato giusto forse lasciare spazio alla partecipazione e se c'era un trattacciato alternativo che avrebbe comportato minori disagi forse era il caso di tenere in considerazione. Non ci sarà nessuna valutazione di impatto ambientale per il progetto delle due bretelle necessarie per la costruzione del tratto a retino della Due Mari, come invece speravano i cittadini che si erano costituiti in comitato. A deciderlo è stato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica acquisito il parere della Commissione Tecnica di Verifica, non rilevando impatti ambientali significativi o peggiorativi. Non si è mai parlato di stop alla Due Mari, semmai si parla di un tracciato alternativo di due strade di collegamento che invece impatterebbero in maniera particolare su alcune frazioni, ricordo Olmo, Sanzeno, Le Poggiola, Chiani. E questa infrastruttura potrebbe essere, se riconsiderata, pensata in un'altra zona e quindi con un impatto diverso. Quindi questa fretta, dopo tanti anni di attesa, rischia solo di comportare forti risagi e a questo punto forse è il caso che il Comune di Arezzo intervenga in maniera più decisa di quanto ha fatto sino ad oggi. I consiglieri comunali di Scioguarezzo sottolineano così la necessità di un ricorso al TAR. Può arrivare anche a un ricorso di questo tipo che forse potrebbe consentire anche al Ministero di riconsiderare questo intervento, pensandolo meno impattante in zone diverse da quelle in cui sono state considerate.